Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Non ci sono! Bella a tutti ragazzi! Dove caspita sono e benvenuti ad un mio nuovo video! Eccomi qua! No questa è quella sbagliata! Io sono XIUDER e ragazzi ho sbagliato le cose! Sfide sempre road trip! La seconda sfida quella che ci chiede di visitare tre location differenti! La prima ragazzi è il DURBURGER con lo SPRAY DRIFT! Ed eccolo qua ragazzi! Lo andiamo a visitare semplicemente passandoci di fianco! Numero 1 fatto! Per la location numero 2 invece ragazzi visitare un dinosauro basta semplicemente andare dove ci sono i dinosauri ovviamente! Nella parte di palmetto paradisiaco! Location numero 2 fatta! Per quanto riguarda ragazzi invece la testa di pietra numero 3 come location! Basta semplicemente andare a laguna ragazzi! Avete capito benissimo dove siamo! La testa è questa! Ci avviciniamo e facciamo la missione! Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video! Un bel pollicione in su! Iscrivetevi al canale! Noi siamo in live! Ciao! E non parte mai l'outro! Non parte l'outro! Non parte l'outro!